Gentili telespettatori, buona giornata. Il proprietario di Pasta Rummo dice io ho boicottato sui social per aver ospitato Salvini nello stabilimento, questa non è democrazia. Allora, diciamo che il boicottaggio sui social fa parte della stupidaggine di tante persone, non c'entra niente con la democrazia. Dire che ti boicottano sui social questa non è democrazia invece no, è proprio questa la democrazia, se ci fosse un regime non ci sarebbero neanche i social, quindi capisco il fastidio per gli sciocchi che visto che hai ospitato Salvini ti boicottano sui social, almeno tentano di farlo perché poi lascia il tempo che trova, però dire che ti boicottano sui social questa non è democrazia, le due cose non c'entrano assolutamente niente, caro imprenditore Cosimo Rummo, le due cose non c'entrano niente. Volevi esprimere il tuo dissenso verso gli sciocchi che sui social boicottiamo perché hai invitato Salvini una cosa, ma accostarlo con la democrazia non c'entra proprio niente, anzi è democrazia, gli sciocchi fanno parte della democrazia. Arrivederci a tutti e grazie